Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme una torta alle pesche. Le pesche abbastanza grandi. 200 g di zucchero di cana, 200 g di farina 00, 5 ova, una bustina di lievito per i dolci, 6 cucchiai di olio di girasole, 170 g di yogurt greco alle pesche, la buccia di un limone, una bustina di vanillina. Iniziamo la preparazione. Adesso separiamo gli albumi del torlo. Lavoriamo il zucchero con i rossi di uovo. E adesso montiamo l'albume di uovo. Mettiamo un pizzico di sale. E adesso mettiamo l'olio, la vanillina, il levito per i dolci. Mettiamo gli yogurt. Mettiamo l'albume di uovo. Mettiamo l'albume di uovo. Grattucciamo l'albume di uovo. Grattucciamo l'albume di uovo. Grattucciamo l'albume di uovo. Mettiamo dentro l'albume di uovo. E adesso mescoliamo. Dalliamo la pesca a fettine tipo così Mettiamo dentro le pesche Giriamo le pesche, le ho messo dentro nel composto e adesso le giro Usiamo una tortiera di 27 cm con la carta al forno dentro E adesso versiamo il composto Mettiamo un bel giretto di zucchero di cana Ecco qua Mettiamo la torta nel forno Ecco qua La torta è pronta L'abbiamo lasciata nel forno a 170 gradi per 35 minuti Mettiamo una fetta e lo assaggiamo un po' Guardate quanto è bella e buona Adesso assaggiamo un pezzo di torta Buono, buonissimo Fatelo perché è molto molto buono Buona Buonissima 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 Buonissima